Siccome no, io sono venuto qui, ho scoperto che lei è attrice, non lo sapevo però l'ho scoperto meglio A questo punto facciamo tutto scene drammatiche, facciamo delle cose, dai Allora la domanda è, c'è qualcosa che ti mette in imbarazzo nella vita un'attrice? Ma quando mai? Falla con quel tiro d'attrice, capito? Anche un pochettino impegnata Qualcosa che mi mette in imbarazzo? Flavo Furian col microfono davanti alla mia bocca È una cosa che mi imbarazza tantissimo Allora la domanda è un pochettino, è un pochettino, è un pochettino